Dopo la famigerata e infimera storia d'amore con Gianni Amman, Demetho Sdemir ha iniziato la sua relazione con Ousanne Koch, con il quale sembrava aver trovato la persona con cui desiderava trascorrere il resto della sua vita. Tanto che ad agosto dello scorso anno si sono sposati con una cerimonia che ha sorpreso tutti. Ma poche ore fa è stato confermato che firmeranno il certificato di divorzio la prossima settimana. Di fronte a tali notizie, non ci è voluto molto perché emergessero speculazioni su cosa sarebbe potuto accadere. Dopo questo flusso di pettegolezzi, è stata la stessa Demetho Sdemir ad avere i giorni peggiori e ha dovuto sopportare di essere accusata di essere infedele al marito, tra le tante cose. Di fronte a questa situazione, Demetho Sdemir è uscita lei stessa per chiarire cosa è successo e per spiegare come è avvenuta la separazione. Non sono stato sorpreso dalle accuse. Sapevo che sarebbe successo qualcosa del genere, ma nessuna di loro riflette la verità. Non ci è mai successo niente come voci. Entrambi abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio per rispetto, abbiamo visto che non potevamo continuare il nostro matrimonio per molto tempo e abbiamo deciso di porvi fine, ha detto. Demetho Sdemir è la separazione dei beni della moglie. Oltre a riferirsi alle voci sul presunto inganno, Demetho Sdemir ha anche espresso la sua opinione sul discorso sui beni che condivideva con il compagno. I pettegolezzi su gioielli, case, beni, possedimenti mi rattristano molto. Mi danno sui nervi.